buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi parleremo di artrite artrite questo dolore cronico artrite reumatoide che colpisce gli arti soprattutto dei vecchetti dove non esiste di fatto nessuna cura e che un dolore cronico che sia di anni annorum lo dico a te che magari mi ascolti lo sai che con l'ipnosi dcs vera e professionale anche con un solo audio mp3 dcs dal titolo mai più artrite puoi eliminare i tuoi dolori e quelli del tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto non può essere aiutato con semplici parole potenti naturali senza nessun effetto collaterale sì o no e non devi credere al sottoscritto perché adesso so che mi sta ascoltando magari mi sta dicendo ma che dice questo pazzo tu devi credere al riviste scientifiche internazionali come l'anset live che trovi su internet dove ci sono tanti casi documentati a parte le testimonianze sul sito dell'associazione di ipnosi dcs associati di los angeles baby hills e miei maestri nonché il sottoscritto hanno aiutato centinaia e centinaia di persone anche con un solo audio mp3 dcs per non parlare delle sessioni dal vivo oppure online di ipnosi dcs vera e professionale sono delle suggestioni uniche al mondo un metodo dcs unico al mondo su gestioni molto potenti naturali senza nessun effetto secondario perché l'ipnosi dcs non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura l'ipnosi da film ma neanche con la stessa bene amata ipnosi conformista commerciale di milton elix dev elman brian weisk eccetera eccetera l'ipnosi conversazionale che io da cui io sono partito per poi distaccarmene sposando l'ipnosi vera e professionale di los angeles baby hills di due grandi artisti dell'ipnosi per la professionale la dottoressa rina brunini il prof dottor michel angel garai perché l'artrite rifletti l'artrite colpisce dal punto di vista subconscio chi si sminuisce chi ha problemi che si somatizzano negli arti di umiliazione di orgoglio di sottomissioni rifletti un attimo becca soprattutto le articolazioni il genuflettersi impiegarsi a chi a cosa se tu anzi il tuo subcosciente che conosce la causa è anche la soluzione ora sapendo cosa dire al tuo subcosciente al tuo piloto automatico al tuo siri dell'iphone al tuo gene della lampada d'aladino tu puoi dire montagna spostati la montagna si sposterà come per miracolo come per magia come per incanto l'incanto è il miracolo della tua stessa mente ecco come funziona ragazzi tutto ciò che vediamo nel nostro corpo né altro che una manifestazione della nostra mente del nostro subconscio che controlla il nostro corpo non è richiesto il tuo credo perché l'ipnosi dice severa professionale non è né politica né religione ma se rifletti tutto parte da qui dal tuo pilota automatico dal pilota automatico di ogni essere umano nel bene e nel male aggiungo che per cui a te la scelta se utilizzarlo a fin di bene a fin di male e l'ipnosi dice severa professionale non ti ruba tempo se segui l'istruzione alla lettera molto facile la prova di non la prova di un piccolo la prova di un idiota tu puoi veramente dire addio alla tua artrite o l'artrite del tuo caro perché non richiede la sua partecipazione anche se non vuole anche se non può ok quindi mai più artrite un audio dcs favoloso oppure se non vuoi scaricarti audio mp3 dcs puoi andare anche da un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona perché il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni di ipnosi dcs online per motivi di tempo e di impegno perché sono spesso all'estero altri progetti al momento che però ascoltami bene questo professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona della tua città del tuo paesello deve aver già affrontato casi come il tuo ok perché anche nel mondo dell'ipnosi ascoltami bene esiste il generalista dallo specialista è logico che la diagnosi le cure tradizionali e per qualsiasi dubbio devi sempre comunque a prescindere dall'audio andare dal tuo medico curante dallo specialista della salute perché nel sottoscritto negli associati pur contando medici psicoterapeuti psicologi di caratura internazionale non facciamo diagnosi né terapia né cure ma aiutiamo il tuo subcosciente il tuo pilota automatico a risvegliare le risorse interiori per eliminare la causa che ti provoca quel problema ok per cui si parla di auto ipnosi dcs vera professionale cioè l'ipnosi che tu da solo ti fai scaricando di un audio mp3 dcs non credere a nessuna parola come al sol devi soltanto pensare che l'ipnosi vera professionale riconosciuta dall'associazione medica mondiale come medicina alternativa nel 1958 della chiesa con papa pio nonno nel 1847 per cui è scienza ma prima di essere scienza e arte con la maiuscola ok per cui tutti sanno dipingere anche nel mondo dell'ipnosi ma pochi sono artisti io ho avuto l'onore di conoscere la dottoressa rinna bruni professor dottor michael angiel grai di los angeles beverly hills e di utilizzare un metodo su di me da più di 12 anni mi auto ipnotizzo con risultati incredibili ragazzi in tutti i sensi immaginabili e possibili sono l'unico caso al mondo che si ipnotizza da solo h24 anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra e come san tommaso se non tocco se non vedo se non tocco non credo ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo con risultati che hanno superato anche le mie aspettative grazie al potere della loro mente aiutato da suggestioni parole ad arte creata d'arte ad hoc è un metodo di cese unico al mondo fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni non dare mai nulla per scontato ricordati la tua mente può fare miracoli anche se non è una persona religiosa perché l'ipnosi ripeto ancora una volta vera e professionale non è né religione politica visita la mia fan page su facebook ipnosi avuto ipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesare dottor Claudio Saracino le fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel guido quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio alla prossima ciao